Le opere di Giulia Tamanini sono caratterizzate da grande eterogeneità che coinvolge sia i soggetti sia i materiali che l'artista unisce nei diversi riquadri che compongono, anche in senso genuinamente etimologico, cum ponere, le sue opere. Tale eterogeneità si combina però in un intero e diviene un racconto surreale all'interno del quale raffigurazioni apparentemente distanti dialogano, il sottile filo che unisce i riquadri trasforma le rappresentazioni solitarie in un tutto significativo. Le opere fanno pensare al circolo ermeneutico perché nascono e si possono comprendere a partire dal rapporto tra il tutto e le parti che lo compongono, rapporto di equilibrio in cui ogni frammento occupa la giusta porzione rispetto al tutto, dove ogni frammento sostiene l'altro. Il risultato complessivo è una narrazione unica ma dalle forme innumerevoli.